A Roma adesso, perché ai Fori Imperiali, è stato presentato un progetto per rilanciare l'agricoltura sull'isola di Lampedusa. Allora ce ne parla Matteo Parlato. È una giornata di festa e di finanziamento per un progetto per portare orti urbani a Lampedusa come riconoscimento per una comunità che in questi anni ha saputo fare tanto e ha saputo accogliere migliaia di migranti. L'idea di portare l'orto a Lampedusa è un'idea non solo simbolica, è l'idea di Lampedusa che è la terra dove arrivano tante persone spinte dalla disperazione. Roma di fatto è non solo idealmente ma materialmente legata a Lampedusa perché di fatto costituisce la seconda tappa di tanti rifugiati, tante persone che fuggono da territori di violenza, di guerra, di tortura, di malattia. Ecco perché Roma ha voluto sostenere fortemente il progetto di Giusi Nicolini e oggi lo facciamo qui con questa festa qui a Via dei Fori Imperiali accogliendo tutti coloro che vogliono partecipare a un progetto di pace e a un progetto che ricordi all'Europa che Lampedusa non è una terra lontana ma è l'ingresso nel nostro continente. Lampedusa è spazzata dal vento, come farete a far crescere gli ori? Su questo stiamo lavorando insieme all'Università di Palermo per fare intanto un censimento delle varietà orticole di Lampedusa per riportarle in vita e poi utilizzando sistemi di irrigazione, sistemi di coltivazione adeguati per l'isola e questo è possibile.